ok ci siamo abbiamo tutto quello che ci serve per fare questa analisi analizzeremo da un punto di vista pratico da un punto di vista anatomico come già ho detto si sta aprendo photoshop mentre io parlo lo schiaffo di mario merola e lo schiaffo di will smith va bene vedremo prima le clip una volta viste le clip le analizzeremo per bene e avremo un resoconto allora iniziamo qua abbiamo i due famosi schiaffi uno recente l'altro uno recente l'altro un classico un classico della televisione mondiale mario merola e nino d'angelo di nuovo iniziamo dallo schiaffo quello che è accaduto ieri agli oscar allora a parte chris rock ha un collo di ferro chris rock ha accusato uno schiaffo che anche se dato male c'era comunque tutto il peso corporeo di will smith ricordatevi ragazzi lezione numero uno di schiaffologia uno schiaffo non è mirato a recarti dolore ma esprimere dominanza fisica lo schiaffo non è per stroppiare per fare male ma è per esprimere dominanza fisica in questo caso l'atteggiamento del corpo il movimento di will smith non ha per niente esplicitato dominanza anzi insicurezza e rabbia will smith si avvicina a chris rock camminando camminando piano e non lo ha mai telegrafato ragazzi come un perry di dark souls e chris si è trovato impreparato quindi è proprio è a mother fucker è proprio a slime questo schiaffo perché perché nessuno se lo immaginava si è avvicinato non era point blank range come invece vedremo vedremo mario merola quindi abbiamo analizzato will smith ok will smith e lo schiaffo errato sbagliato invece ora staremo a vedere lo schiaffo quello esatto quello perfetto quello performante perfetto point blank range completamente di faccia completamente davanti al bersaglio perfezione perfezione assoluta mentre invece come possiamo rivedere e ora le analizzeremo su photoshop perché photoshop ci permette la visuale quella tecnica vedremo invece appunto come come guarda guarda in che posa plastica sta usando tutto il corpo per dare uno schiaffo in un torneo di schiaffi will smith sarebbe il peggiore il peggiore in assoluto vediamo innanzitutto la mano per proteggersi come nelle arti marziali tu non solo stai dando uno schiaffo a tradimento puramente a tradimento ti stai pure difendendo possiamo vedere la mano sinistra come si protegge will smith come si protegge da un attacco che non ci sarebbe mai potuto essere da parte di chris rock perché non se lo aspettava e lui non solo non solo si muove con tutto il peso del corpo perché un figlio di puttana alto will smith è alto e grosso quindi raggio molto largo bravo raggio molto largo non va bene lui ha usato tutto il peso corporeo e ha avuto pure la fottuta audacity di difendersi con una mano così si è difeso cioè capito come come quando fai box no tu con uno colpisci con l'altro ti difendi ma che cazzo ti devi difendere se hai dato letteralmente uno schiaffo a tradimento le spalle non sono parallele al corpo bravo angelo bravo 30 30 e lode angelo bravo le spalle non sono parallele al corpo sono sbilanciate completamente sbaglio numero uno posizione della mano si protegge non ti devi proteggere perché sei sei un bastardo ok stai stai letteralmente charmando le mani addosso a un cristiano che non se lo aspettava e ti proteggi pure no poi questo è un altro errore mano rigida braccio rigido lo schiaffo è una frusta lo schiaffo deve essere una frusta il ceffone soprattutto quella mano smerza cioè quello deve essere una frustata deve fare un impatto non è un cazzotto infatti noi possiamo notare come il luogo di impatto sul viso di chris rock non è stato la guancia no non è stato la guancia è stato bensì il mento e l'apparato uditivo recando così probabilmente anche un doloroso fischio e questo mi fa ritornare al punto di base dove ha affermato che lo schiaffo non è per recare dolore ma è per esprimere dominanza cosa che will smith non ha fatto soprattutto perché dopo si è messo a piangere cosa faccio per amore cosa faccio per amore sbagliatissimo sbava uno schiaffo sbagliatissimo mentre invece vediamo la perfezione ragazzi questo invece cambiamo colore questa è la perfezione perché abbiamo corpo non rigido corpo fluido fluidità assoluta nel movimento fluidità assoluta posizione posizione point blank range esattamente davanti a nino d'angelo dopo che nino d'angelo stava stava tolcando shit da mezz'ora davanti a mario merola mario merola ha detto guarda sto per chiamarti uno schiaffo osserva il movimento del mio corpo serve il mio linguaggio corporeo fisico e stava per chiamare questo schiaffone dove possiamo vedere che la circonferenza intera della mano di mario merola è perfettamente è perfettamente parallela senza difesa senza difesa bravo il cinema anche a te 30 all'esame bravo è perfettamente parallela alla guancia di rino d'angelo così facendo l'impatto l'impatto non solo non solo esprime una dominanza assoluta ma fa causare un motion blur al film stesso cioè vedete il motion blur il motion blur sia quando c'è una fottuta mossa mac 2 uno schiaffone di quelli proprio a pane e pupa ruolo mac 3 capito capito come fra capi come proprio uno schiaffo perché quello di wii smith era invece quello di mario merola è un botto la bomba di maradona ragazzi questo è un vero schiaffo possiamo analizzare anche la posizione del busto perfettamente perpendicolare al pavimento perché in ogni arte marziale la forza del colpo proviene dal basso verso l'alto e ti dà lo slancio non lo slancio non lo slancio di wii smith che cammina e chiava lo schiaffone se ne va no lo slancio quello dell'anca quello del busto quello del braccio affrusta quindi mario merola qua abbiamo punto 1 perché la fa allora di nuovo la forza la forza viene punto 1 1 punto 2 che è tutto un vum una forza che fa vum ok e punto 3 l'impatto l'impatto ok quindi la lezione la lezione per oggi è conclusa mi raccomando la differenza tra schiaffo di merda e schiaffo fatto bene va bene ragazzi cosa da dire wii smith cosa da dire dopo tutta questa lezione ora sentiremo direttamente le parole di wii smith sentiremo direttamente le wii ecco qua fortnite grazie per aver partecipato alla lezione ragazzi grazie a tutti